Quattro emolisani, due uomini e due donne, arrestati dai carabinieri del NAS di Pescara in collaborazione con i colleghi di Vasto e Termoli per estorsione in concorso nei confronti di un ginecologo. Il professionista abruzzese lo scorso anno è stato messo alle strette da una signora all'interno del suo studio. La stessa gli richiedeva dei soldi per non divulgare informazioni successivamente appurate a essere infondate circa un presunto aborto clandestino praticatole dal professionista nel medesimo studio. Sentitosi minacciato e a fronte della determinazione della donna, il medico emise così un assegno da 5.000 euro. La signora però con i suoi complici per incutere ulteriori timori al ginecologo e percepire così indebitamente ulteriori somme di denaro sporse denuncia per aborto clandestino. Così l'apertura dell'attività investigativa del NAS che nel tempo ha appurato il disegno criminoso del gruppo di malviventi immediata l'applicazione delle misure restrittive avvenuta questa mattina. I quattro soggetti si trovano ora agli arresti domiciliari a Termoli e Vasto.